Riprende il servizio dopo due anni di stop, ma nella prima giornata il city sightseeing non porta spasso solo turisti. Nel pomeriggio di ieri una corsa speciale per 40 famiglie ucraine sfuggiti alla guerra. Sono donne, bambini e ragazzi tutti a bordo del bus rosso a due piani, direzione Posillipo. Una bella giornata per dimenticare le bombe e l'orrore della guerra. In mattinata allo zoo, nel pomeriggio alla scoperta di Napoli. Con loro i volontari della Croce Rossa. Alla partenza del bus sono intervenuti con l'amministratrice Antonietta Sannino, gli assessori al turismo Teresa Armato e alle politiche sociali Luca Trapanisse. Una bellissima iniziativa che ha due valori. Il primo è quello dell'accoglienza. Il secondo valore è quello, a me caro ugualmente, che è il turismo. Ha ripreso i suoi tour City Sighting e sappiamo che già ha avuto molte richieste, molte da cittadini e turisti italiani, ma molte anche da turisti stranieri. A Napoli, in un mese di guerra, sono arrivate già 14.000 profughi ucraini. Tantissimi sono i bambini per i quali si stanno predisponendo percorsi di attività scolastica. Noi ad oggi abbiamo accolto quasi 300 nuclei familiari, 700 persone. Grazie alla catena di collaborazione che abbiamo con la Prefettura, la Procura, con l'Aslo, con la Regione Campania, con la Croce Rossa, ci sono 5.000 persone che sono ospite nella nostra città.